Io non so se sono proprio direttamente competente sulla risposta a queste questioni, perché secondo me questa è una cosa che attraversa tante competenze. Per il prossimo periodo natalizio ci sono una serie di eventi programmati che consentiranno con un progetto la permanenza della polizia locale fino alle 22. In questo senso poi veramente vi invito tutti quanti presenti, consigliere opposizione, siamo tutti genitori e se avete idee da poterci portare per fronteggiare meglio questo problema, siamo veramente pronti a recepire qualsiasi iniziativa, qualsiasi idea che ci fosse. Che vi devo dire? Forse sarà la mancanza delle palestre, per cui, diciamo, delle palestre di cui abbiamo parlato prima. Per cui questi teenager sentono la necessità di sfogare le loro intemperanze la sira per strada in questi luoghi.